I finanzieri del Comando Provinciale di Crotone in questi primi mesi del 2022 hanno individuato 102 soggetti stranieri ritenuti responsabili di aver percepito illecitamente il reddito di cittadinanza per un importo complessivo di circa 500.000 euro. La normativa vigente, lo ricordiamo, prevede che affinché il cittadino straniero possa beneficiare del contributo pubblico debba essere residente in Italia da almeno 10 anni al momento della presentazione della richiesta dei quali almeno gli ultimi due in maniera continuativa. Proprio la verifica di questi requisiti è stata indirizzata all'attività del controllo del nucleo di polizia economico-finanziaria crotonese che attraverso la consultazione delle banche dati in uso al corpo è stato accertato l'utilizzo di false accettazioni nelle dichiarazioni sostitutive uniche da parte di 102 soggetti di nazionalità extracomunitaria. Gli stessi, infatti, pur non avendo maturato il periodo di residenza richiesto dalla norma, hanno comunicato all'interrogatore di esserne comunque in possesso. Emblematiche sono risultate le posizioni di alcuni cittadini extracomunitari che hanno percepito il sussidio pubblico nonostante fossero residenti in Italia da appena pochi mesi. In un caso, ad esempio, è stata conseguita la residenza nell'ottobre del 2020 e la richiesta è stata effettuata nel marzo del 2021. In un altro è stato anche accertato che un cittadino extracomunitario, nonostante fosse già denunciato per analoghi fatti in altra zona d'Italia, ha ripresentato questa volta nella provincia di Crotone la richiesta per ottenere il beneficio in parola. Oltre ad essere stati denunciati alla Procura della Repubblica, i percettori del sussidio sono stati segnalati all'Inps per la revoca o sospensione del contributo e per il recupero delle somme già erogate, oltre che per il blocco dei contributi richiesti, ma non ancora erogati. Procura della Repubblica